Bentornati a SOS Agrizzotv, buonasera Beppe e Marco. Ciao Fabio, siamo a Pratantico, una zona dove siamo venuti spesso ultimamente anche per raccontare. Dove sei nato te? A 30 metri qui di chiesa. Ecco perché sei venuto così. Siamo a casa della signora Angela, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora Angela, che cosa succede? C'è un problema che dura da un po' di tempo, vogliamo raccontarlo. Succede che dal Natale del circa, le feste di Natale del 2014, l'appartamento qui di sopra è stato affittato dal proprietario, è un'associazione che si occupa di profughi, di persone profughi. Noi ce li siamo visti, io me li sono visti arrivare un pomeriggio a quest'ora qui, sono arrivati otto ragazzi, sono andati qua di dietro, è arrivato il camion dell'Oxfam, quindi senza un camion normalissimo, senza logo, senza niente, ha iniziato a scaricare reti, materassi e si sono insediati in questo appartamento. La notte di Capodanno ci siamo resi conto di chi avevamo di sopra, perché siamo tornati alle 5 di mattina e c'era una musica che si sentiva dalla Statale fino giù al parcheggio del Portobello, abbiamo suonato, abbiamo picchiato la porta, non abbiamo avuto risposta e da lì sono iniziati i problemi. Sempre di più, sempre di più, fino al settembre dello stesso anno. In questo tempo è successo di tutto, noi non abbiamo mai dormito, mai, né giorno né notte, questo appartamento era abitato da otto ragazzi, di un'età compresa dai 20 ai 30 anni, non erano solo loro, ma era un via vai continuo di gente, continuo, di gruppi di gente che a tutte le ore arrivavano, che se ne andavano continuamente. Ho chiamato il padrone di casa, non sono mai stata ascoltata da nessuno, da nessuno. Mi hanno dato dell'intollerante, mi hanno detto che la signora che si occupava, siccome poi questi ragazzi erano così tanti, che dove mangiavano dormivano, dove dormivano mangiavano, quindi si sentiva alle 2, le 3 di notte le reti che venivano buttate giù, venivano messi materassi, venivano, venivo di risa, quando chiamavo mi dicevano, signora si metteranno i velcri ai mobili, da questa signora che se ne occupava frasi così, tipo non posso mica stare tutto il giorno con loro, compresa la notte a dormire, noi abbiamo dovuto contro soffitta alla camera, con il legno e la lana di vetro, ma non è servito a niente, questa cosa non è servita a niente. Avevamo notato, ah, telefonati di giorni di notte polizia, carabinieri, abbiamo allertato il vigile di quartiere, anche loro due volte sono venuti, poi la polizia, hanno smesso di venire, mi hanno dato risposte tipo, eh signora ma noi abbiamo una pattuglia solo, non possiamo mandarla lì, oppure abbiamo una pattuglia con due agenti, ma non possiamo mandarla lì, perché non sappiamo chi c'è in questa casa, chi sono, chi non sono. Avevamo notato in questo periodo un giro strano, è da lì che è successo tutto il problema, un giro strano, cioè arrivava questi personaggi, la sera arrivavano con l'ultimo pulma, spesso portavano una donna, una donna della loro nazionalità, quindi una ragazza nigeriana. avevamo notato che quando succedeva questa cosa c'era ancora più confusione, molta più confusione, e quindi io l'avevo fatto presente all'associazione che sempre la signora mi disse, impossibile le donne, impossibile, un alloggio per maschi, impossibile che ci sia. Questa sera di settembre del 2014, noi stavamo rientrando, e dietro loro erano arrivati con il pulma, a che il mio marito disse, stasera mi arrabbio, perché stasera a riebanda un'altra volta. Si rivolse a uno di questi, il capofile gli disse, lo sai che lei qui non ci può stare, rimettila nel pulma e manda l'Arezzo. A questo inizia a dirgli che lei era la sua moglie, che l'aveva sposata a Nigeria, che lei qui ci poteva stare in italiano. Poi a un certo punto dall'italiano il mio marito insisteva, mentre intanto tutto il paese di Pratantico ancora era giorno, iniziava a fare buio, si stava affacciando tutto il paese di Pratantico, tutti i nostri vicini, da qui davanti fino a quassù, tutti quanti. Quando vedi che il mio marito era risoluto, iniziò a parlare in inglese, capendo che noi non si capiva l'inglese, quindi iniziò a parlare in inglese. Allora il mio marito mi disse, chiama Cristian, che è il mio figliolo, che era su di sopra. Lui scese, scese, venne giù e sei mesi qui alla porta. Questo, nel parlare, addirittura gli andava, il mio marito stava riprendendo tutto quel cellulare, questo gli andava davanti, in inglese come di picchiami, toccami, picchiami, fammi davanti al cellulare. E il mio figliolo, che era qui, a un certo punto uscì e andò, gli disse, cosa fai te? Cosa fai te? Dimmi cosa fai, ripetilo. Allora il mio figliolo gli disse, che ha detto Cristian? Gli disse, ha detto che se ti trova da solo, ti taglia la testa. A quel punto lì il mio marito mi disse, no. Allora va chiamato la polizia. E mi fece chiamare i carabinieri e polizia, che vennero, perché io gli disse, guardate che stasera succede il finimondo. Vennero, vennero e calmarono un po' la situazione. Poi dopo un po' arrivò quelli dell'associazione, si calmò le acque. E uno di questi poliziotti ci consigliò di fare la denuncia, che comunque noi avevamo già ponderato di fare. E quindi la mattina dopo uscire cammo in questura, venne tra l'altro in quei giorni il capo dell'ufficio immigrati della questura d'Arezzo, venne qui, venne proprio qui, un puccino qui, parlò con me. Facciamo la denuncia, il giorno dopo facciamo la denuncia. Era lunedì sera, il venerdì furono, torno un passo indietro, quando successe tutta questa confusione quella sera, da su uscirono, noi ne vedemmo due, però un'orda di gente e tutti avevano le chiavi di questo appartamento, di questa casa. Tutti, tutti avevano le chiavi. Facciamo questa denuncia e era lunedì sera, il venerdì vennero, li caricarono in macchina, compreso tutta la sua roba, tutte le sue cose, e li portarono via. Rimase la casa vota il sabato e la domenica. La domenica pomeriggio arrivarono otto pakistani e furono messi in questo appartamento, lei lo sa signor Beppe, è 70 metri quadri, sono appartamenti. Otto dentro 70 metri quadri. Sì, sì. C'è la meraviglia, sono avuti 13, 40, 20. 7, 8. E le cose sinceramente andarono bene per un mesetto, poi iniziarono a togliere i più bravi. Quindi si è che il popolato di africani. E è successo questo dal settembre fino al marzo dopo, praticamente erano rimasti ancora cinque, quattro pakistani e tre africani. Io l'etnia non lo so, comunque erano africani. E c'era sempre bordello, c'era sempre bordello con questi africani. quest'estate il ragazzo che sta di qua, la famiglia che sta di qua, perché qui siamo in una palazzina di quattro famiglie, una mattina viene arrabbiato, dice c'è tutto il bagnon tasato, c'è tutto il pozzetto, è pieno di profilattici e assorbenti. C'è un problema di convivenza, di maleducazione, insomma mi sembra. Di non interesse ad integrarsi assolutamente. Qui c'è stato uno spaccato che ci dà la signora. Non è un problema soltanto suo, dove si creano questi luoghi, purtroppo succede molto spesso, perché le abitudini di che andano a loro sono completamente diversate le nostre. Magari la gente qui va a lavorare, la mattina si deve alzare, loro invece non si alzano, fanno quello che vogliono, sono mantenuti e quindi di conseguenza... Il problema è la base. Il problema è che se la pubblica amministrazione, visto che vengono qui in Italia, li utilizzassero anche per fare un po' di servizi sociali, la mattina si alzassero, potrebbe essere che questi problemi non ci fossero. E farebbero del bene anche la comunità. A uno di questi gli aveva persino trovato lavoro, il figlio della mia vicina di casa, non ci si è neanche presentato al lavoro. Cioè non ci si è... Lui torna la notte alle 4, solo o in compagnia, si alza il giorno, a mezzogiorno esce, occhialetti Ray-Ban, camicettina firmata, sigaretta in bocca e se ne va a rezzo. Tornano la sera alle 11, mangiano la sera alle 11, quando te giustamente vai a letto, perché io lavoro in ambito socio-sanitario, quindi ho dei turni in cui ho lavorato un anno e mezzo all'istituto di Agazzi, entravo in servizio alle 5 di mattina, io ho passato notti, neanche i tappi servivano, senza dormire continuamente. Ci sarebbe anche... Siamo in chiuso... Si fa anche un rimedio, eh. Fai. Ci sono delle ore in cui loro dormono? Eh, noi ci siamo provati anche quello, ma... Se lo scendo io, ce l'ho io le casse. Gli canta al karaoke, poi credo che li manda via su. Noi ci è stato dato, è appiccicato da tante persone... Narzisti. Il titolo... Io ti posso assicurare la luce, l'hai vista, lei è stata, si è presa, l'hanno buttata nei bidoni della spazzatura. Ho una bambina adottata nello Sri Lanka a distanza in una missione, è la seconda che ho, in una missione dove ce l'ha la mia mamma, ce l'hanno le mie sorelle tutte e due, ce l'hanno le mie cugine, dove la mia sorella ogni quattro anni si reca per vedere che queste creature stiano bene gestite dalle suori che erano una volta San Giuseppino. Ti posso giurare sulla testa del mio fiolo, che a 27 anni, che ne io ne il mio marito siamo razzisti. Il problema è quando metti otto persone in 70 metri quadri. Già si spiega così. Signora, io la ringrazio e spieghiamo che questa situazione si sia effettivamente tranquillizzata. Grazie. Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao.